Si è svolto a Teramo un nuovo sopralluogo presso le case Ater di via Balzarini e via Damoli organizzato dal consigliere regionale Sandro Mariani su richiesta di Luciano D'Amico. All'incontro hanno preso parte anche i membri della commissione di vigilanza appartenenti alle forze dell'opposizione. Assenti invece i rappresentanti della maggioranza regionale che non hanno preso parte all'incontro. La visita avvenuta alla presenza del sindaco di Teramo, Gianguido D'Alberto, e dell'assessore comunale Ciammariconi evidenziato ancora una volta i gravi problemi strutturali di gestione che affliggono gli immobili. Va avanti da diverso tempo, innanzitutto va detto che è fatto curioso, singolare, che dopo la commissione di vigilanza la regione all'improvviso dà un'accelerata dopo 5 anni di sonno profondo e decide di trasferire 15 palazzine sotto la competenza e la responsabilità dell'OSR. Cosa che poteva essere fatta prima, addirittura anche scandagliando quelli che sono i tempi di inizio lavori e ipotetica chiusura cantieri. Quindi capite bene che c'è stata una sorta di disattenzione da parte della regione, non lo dico per fare la politica urlato per attaccare, ma è un dato di fatto. Oggi vedere appunto coinquilini Ater che vivono in strutture dove per incompiute che ci sono su queste palazzine, tipo qui a Via Balzarini, mancherebbero pezzi di impianti fotovoltaici, quindi in palazzi che sono stati concepiti per essere autonomi a livello energetico e tutto ciò si riverbera con costi energetici enormi e disagi enormi per i coinquilini. Al termine della visita Mariani e D'Amico hanno dichiarato che si sta valutando anche se procedere con un'azione legale portando il caso in procura per denunciare lo stato di degrado e l'assenza di interventi risolutivi. Sono problemi che richiedono una soluzione ormai non più procrastinabile, una soluzione immediata per garantire il diritto alla casa a chi ne ha davvero necessità. Io credo che la Commissione possa disporre con urgenza, richiedere con urgenza all'Ater di competenza di provvedere o a delle soluzioni alternative o a definire bene l'attuale sistemazione. Io credo che si tratti qui di completare l'intervento, prevedere delle strutture di domotica avanzata, delle strutture che richiedono un consumo energetico significativo senza aver allo stesso tempo predisposto degli impianti che possano autoprodurre energia e significa di fatto rendere inabitabili queste soluzioni. Grazie.